Ciao a tutti sono Ivots e benvenuti in questo nuovo video tutorial in cui vi andrò a mostrare come scaricare e installare la texture pack Spax Pure BD Craft per Minecraft 1.9 Questa texture pack è utilizzata da moltissimi youtuber ed è veramente veramente figa come potete vedere in questo screenshot del gioco Inizio appunto a dirvi che per scaricare la texture pack vi basterà andare nel link che trovate nella descrizione Che vi porterà sul sito ufficiale del creatore e scrollando la pagina potrete trovare le diverse versioni di questa texture pack Ovviamente dalla più pesanta alla più leggera e in base al vostro computer leggendo anche qua i requisiti del vostro computer scaricate la versione apposita Io vi consiglio quindi di scaricare questa qui col pollice in su che teoricamente dovrebbe reggere tutti i computer Però in ogni caso se dovesse lagarvi scaricate una versione più leggera Quindi poi andate a selezionare la versione quindi in questo caso download for 1.9 e vi aprirà quest'altra pagina e poi partirà il download Una volta che appunto avete finito di scaricare il tutto vi troverete la texture pack con la versione che avete selezionato per Minecraft 1.9 Poi vi basterà copiare questa cartella quindi fare copia andare nella cartella di Minecraft andare su resource pack e incollare qui dentro la vostra texture pack Poi andate ad aprire Minecraft andate su un mondo single pair andate a selezionare quello che volete voi Ad esempio appunto andiamo a selezionare questa qui e poi andiamo a selezionare la texture pack semplicemente dalle opzioni Cosa che dovreste sapere fra tutti ma vi faccio vedere in caso appunto siete un po' insomma ecco Quindi vi basterà scusate vi basterà andare appunto sulle opzioni quindi fare esc opzioni Resource pack e andare a selezionare la resource pack che è la spax 128 per Minecraft 1.9 E quindi funzionerà per le versioni dalla 1.9 in giù quindi 1.8 1.7 e via Dicendo mentre per le versioni successive no in quanto non sarà aggiornata per quelle versioni E come vedete un'altra selezionata vi comparirà la texture pack e vi compariranno tutti questi blocchi Che saranno modificati in base alla texture che avete appunto scaricato Quindi ragazzi adesso laggo un pochettino perché comunque sto registrando ma comunque questo è il tutorial molto molto semplice Se vi è stato veduto vi invito a lasciare un bel mi piace e noi ci becchiamo nel prossimo video Ciao a tutti